Nel VCO, nell'ultimo anno, 250 le donne vittime di violenza che si sono rivolte ai centri antiviolenze all'Asla. Catena umana degli studenti dell'Enaip a Omenia, a Baveno, al Forum del Turismo, ricordata Giulia Cecchettina. BLS rimette a nuovo i treni auto per i prossimi vent'anni e ha annunciato macchiage per le navette Iselle Briga. I saloni di Villa Giulia a Verbania ospitano la ventisettesima edizione della mostra della Camellia Invernale. Laghi e Monti con lo storico Rizzi vi racconta Stocal per il re del Sempione in un percorso da Briga a Domo. Nell'anticipo della quindicesima giornata sconfitta a Casalinga per il Borgo Sese ha superato per 2-1 dal Brano. Un gesto semplice e veloce che può salvare una vita. È partito dal Canada, non a caso durante la pandemia di coronavirus, periodo in cui le donne vittime di violenza domestica erano maggiormente in pericolo. In questo video, diventato virale, la donna bionda chiede alla sua amica la ricetta del banana bread. Durante la conversazione fa segno con la mano, sullo sfondo si intravede il suo aguzzino che non si accorge di niente. La conversazione tra le due donne prosegue come se nulla fosse, ma l'amica ha capito. Cosa fare in questi casi? Importante non chiedere spiegazioni che potrebbe sentire il diretto interessato, fare eventualmente domande la cui risposta può essere solo sì o no. Far capire alla vittima che si è colto il segnale e che si è disposti ad aiutarla, chiamando la polizia o i centri antiviolenza. L'importante è sapere di non essere sole e di avere una via d'uscita. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di VCO Notizia. Abbiamo deciso di aprire così il nostro giornale oggi, 25 novembre, il nostro modo di essere vicino al fianco di chi è vittima di violenza. Combattere la violenza sulle donne è un dovere civile e etico a cui le istituzioni devono rispondere. La violenza di genere resta ancora un fenomeno per lo più sommerso. La sensibilizzazione sul tema è necessaria per garantire il suo riconoscimento. Per questo è importante tenere alta l'attenzione. Ad affermarlo è stata Alessia Caserio, che è vicepresidente del Corecom del Piemonte. Negli ultimi anni, aggiunto, sono stati fatti nella nostra regione anche importanti progressi, ma molto rimane da fare. E a questo proposito il Corecom del Piemonte ha attivato da anni una promozione nell'educazione, nella formazione alla cittadinanza di genere. Peraltro, sempre in Piemonte, attivo anche una casella di posta elettronica, non-discriminazione.corecom-cr.piemonte.it, dedicata proprio all'accoglimento di qualunque segnalazione. Il fenomeno non ha confini, non conosce classe sociale. Pensate che nel BCO, nell'ultimo anno, sono state 250 le donne che si sono rivolte ai servizi del territorio per denunciare situazioni appunto di violenza, di maltrattamento. L'argomento è stato al centro del settimanale del nostro direttore questa settimana. La trasmissione torna in onda anche domenica alle 14. Nella puntata del Sasso nello Stagno di questa settimana abbiamo parlato di violenza di genere. L'abbiamo fatto in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. L'abbiamo fatto indicando un percorso che anche nel nostro territorio può aiutare le donne vittime di violenza. Nel nostro territorio fortunatamente c'è un centro antiviolenza che è operativo, che funziona molto bene. Allora io vorrei chiedere a Sonia Manini, che è sostituto direttore del CIS Ossola, che è il capofila di questo centro antiviolenza, un po' i dati, la fotografia di quest'anno di operatività del centro antiviolenza. Sì, da ottobre dello scorso anno ad ottobre di quest'anno il centro antiviolenza ha preso in carico 193 situazioni di donne vittime e tra queste 193 donne 93 di loro si sono presentate per la prima volta e circa 60 minori sono minori vittime di violenza assistita. Questi dati vanno integrati con i dati dell'ASL che ha visto 121 accessi all'aldea. Questi numeri un po' si sovrappongono, alcune delle donne, la maggior parte delle donne che arrivano all'aldea poi arrivano ai servizi di territorio che mettono in atto dei percorsi di accompagnamento, di tutela, di protezione affinché la donna possa affrancarsi dal circuito della violenza. E, dicevo, questi dati vanno sovrapposti e quindi il totale complessivo è di circa 250 donne. Grazie. Allora, a livello locale sono molte le iniziative organizzate proprio per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema. Ieri a Omenia c'è stata una catena umana degli studenti dell'Eneip. Una catena umana lunga più di 100 metri perché tante sono le ragazze e ragazze dell'Eneip di Omenia che hanno voluto dare vita a questa manifestazione per ricordare le 106 donne vittime di violenza. E' un momento importante di riflessione e anche di cercare di comprendere un po' un fenomeno che è incredibile e che tutti quanti non accettiamo. Un nome, uno dei tanti, 14 novembre 2023, Patrizia Vella Lombardi. Questo è il nome che porti tu. Ma per voi che cosa rappresenta questa giornata? Come vivete voi, che siete ragazzi e anche ragazzi giovani, la violenza che avviene sulle donne? E' un argomento molto forte e se siamo i primi ad affrontarlo, comunque noi che siamo della prossima generazione riusciremo magari piano piano a far cambiare le cose e da questi piccoli gesti comunque si può notare la nostra solidarietà che proviene anche da ragazzi della scuola, non solo da ragazze perché c'è bisogno anche del sostegno maschile. Voi a scuola, a l'Eneip, avete tante ragazze, soprattutto affrontate questi temi, a parte la giornata di oggi? Le donne rimangono fragili fisicamente rispetto all'uomo e quindi se non c'è un cambiamento culturale per cui l'uomo la sua forza la mette a disposizione di un bene comune e non contro la donna che lì non c'è niente da fare, è più fragile, non cambierà la situazione. Dunque viene messa in discussione la figura dell'uomo che come abbiamo sentito tante volte è più fragile, a volte rispetto anche, soprattutto rispetto alla donna in queste situazioni. La scuola reagisce con questi eventi, con questa sensibilità e in che altro modo? In questo istituto ci sono soprattutto ragazze perché imparano la professione da acconciatore, ma ci sono anche alcuni ragazzi e anche con loro il confronto, il dialogo e cercare di sensibilizzarli su quelle che sono tematiche così annose risulta fondamentale. E diverse sono state le iniziative promosse dal Centro Commerciale Le Isole di Gravellona proprio su questo tema. Sentiamo allora. Il Centro Commerciale Le Isole ha celebrato con diverse iniziative il 25 novembre, la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. Sino ad inizio dicembre il Centro ospiterà la mostra dal titolo Cantardonna Ritratti. Sono stata coinvolta nella realizzazione di questo progetto molto importante, in questa giornata molto importante. Mi è stato chiesto appunto di realizzare questi ritratti di donne che si sono adoperate per portare avanti i diritti civili, i diritti dei più deboli, delle donne. E questo coinvolgimento mi ha parecchio lusingata perché ritengo soprattutto in giornate come queste, ritengo che ognuno di noi possa fare qualche cosa nel proprio piccolo. La mostra sarà visibile fino a domenica 3 dicembre al primo piano del Centro Commerciale Le Isole. Come associazione Non sull'aiuto abbiamo appunto accolto con molta partecipazione questo invito a collaborare a questo evento. L'associazione appunto ha un servizio di mediazione per tante persone straniere, in particolare donne e i loro bambini rispetto ai servizi pubblici. E quindi si fa portavoce anche per loro di una campagna nazionale ma anche internazionale per i diritti della donna. A fianco alla mostra lo spettacolo del gruppo di canto popolare Arsuna Kanta. Sì, era qualche anno che il nostro gruppo di canto popolare Arsuna Kanta aveva l'intenzione di fare uno spettacolo dedicato alle donne, dedicato alle donne del folk. E quindi sono due argomenti che ci interesserono da diverso tempo. L'anno scorso con l'uscita del libro di Chiara Ferrari, le donne del folk e cantare gli ultimi, abbiamo un po' preso la palla al balzo. Infatti lo spettacolo è liberamente ispirato a questo libro. Altra iniziativa promossa all'interno del Centro Commerciale è Fiori contro la violenza sulle donne, che ha visto protagonisti gli studenti dell'Istituto Galileo Galilei di Gravellona Toce. Come gli anni passati, sempre nell'ambito delle attività di educazione civica, abbiamo proposto in questa giornata le panchine rosse che abbiamo realizzato a Gravellona e l'anno scorso un convegno con dei manifesti di pubblicità progresso. Quest'anno abbiamo pensato questa iniziativa dei Fiori. Veniamo qui al Centro Commerciale Le Isole, che ci ospita e con cui abbiamo collaborato, proprio per interagire con la comunità di Gravellona, credendo che i ragazzi hanno anche necessità di parlare fuori da un'aula scolastica e di fare educazione anche alla comunità di Gravellona. Hanno reagito benissimo, sono entusiasti. Sono qui in gruppo numeroso anche nella giornata di sabato, che non è una giornata di scuola, e stanno dando veramente prova che la scuola va oltre le aule di un edificio. Noi come Novoa Coppa e Coppie Monte siamo tutti gli anni a distribuire un volantino dove invitiamo i nostri soci a donare 100 punti per i centri antiviolenza del Piemonte per le donne che hanno avuto problemi di violenza. E anche il forum del turismo, ospitato ieri e poi ancora oggi a Baveno, ha ricordato le donne vittime di violenza, in primis la giovanissima Giulia Cecchettin. Nel suo ricordo, lo sapete, si è messa in moto davvero una macchina che vuole fare rumore. Ma al ministro Santanchè il Baveno Calcio ha fatto anche un dono, sempre all'insegna di questo tema. Close to Meraviglia. Si è chiusa questa mattina la due giorni organizzata dal Ministero del Turismo Italiano. Oggi il congresso si è aperto con un minuto di silenzio per la giornata contro la violenza sulle donne. Subito dopo, sul palco, il ministro del turismo, Daniela Santanchè, ha ricevuto dalla squadra femminile del Baveno Calcio una maglietta fede ad un impegno che ogni giorno possa ricordare l'importante lotta contro la violenza di genere. Quanto il calcio femminile di cui voi da diversi anni siete ambasciatori è importante per la lotta contro la violenza sulle donne? Diciamo che è importantissimo. Diciamo che anche le ragazzine che giocano sul campo con questa maglia e comunque i ragazzini li vanno a vedere perché comunque si è creato un ambiente unico perché noi abbiamo 250 tesserati fra ragazzi e ragazze. Creando questo ambiente unico, comunque giocando con queste maglie ma anche gli avversari, è un messaggio molto molto importante che vorremmo dare. Volemmo ampliarlo adesso, la nostra idea è ampliarlo anche sulle maglie dei ragazzini sul maschile, non solo sul femminile perché per me è giusto anche fare così. Sindaco, un gesto importante da parte della città di Baveno e dal Baveno Calcio in una giornata che non cade a caso? Assolutamente no. Ieri sera abbiamo illuminato il nostro lungolago, i nostri monumenti di rosso. È una giornata che dobbiamo sempre ricordarci, ma non solo oggi. Tutti i giorni noi siamo orgogliosi di quello che stiamo facendo come iniziative in questo senso. Sono felice di questa iniziativa del Baveno Calcio. Ringrazio tutti i dirigenti, ringrazio Daniela Melfi che è stata l'ideatrice di questa maglia. Insomma, credo che sia un messaggio chiaro che dobbiamo ricordarci tutti i giorni e non solo ovviamente in questa giornata. Durante la giornata si sono alternati ministri, imprenditori e rappresentanti degli organi istituzionali. In mattinata era atteso anche il premier Giorgia Meloni qui a Baveno, all'Hotel Dino. Purtroppo per motivi istituzionali si è collegata da remoto per un saluto durante il congresso. Mi scuso con tutti voi, mi spiace veramente molto di non essere riuscita alla fine a essere fisicamente presente a Baveno sulle rive dell'Ago Maggiore, un poco tra l'altro ideale dal mio punto di vista per parlare di turismo, di bellezza, di identità. Insomma, in una parola sola per parlare d'Italia. Mi spiace, spero che mi perdonerete. A volte è veramente molto difficile tenere tutto insieme. Noi ora siamo alla cronaca. Tre sudamericani sono stati arrestati dai carabinieri della NOR e dal radiomobile della Compagnia di Arona in collaborazione con il personale della stazione dei carabinieri di Romagna-Anossesia. Si tratta dei presunti autori di una serie di furti in abitazioni commesse negli ultimi mesi nel Novarese e anche in provincia di Milano. I tre sono stati bloccati mentre viaggiavano a bordo di un'autovettura intestata ad una terza persona, priva di assicurazione, senza revisione. Dall'ispezione del veicolo è emerso che nel portabagagli erano custodite alcune baligie, uno zaino, all'interno dei quali è stata scoperta della refurtiva, ma anche attrezzi da scasso e rice trasmittenti. Il materiale è stato posto sotto sequestro. Per i tre sudamericani con precedenti specifici è scattato il fermo, quindi l'arresto e ora si trovano presso il carcere di Novara. Ora invece nel prossimo servizio parliamo di rifiuti e lo facciamo andando a Berbania. Sentiamo. Nei primi quattro mesi di quest'anno la media delle segnalazioni a conservici oper di servizi sulla pulizia e la raccolta rifiuti inviate da cittadini raccolte dall'amministrazione e oltre a proprie segnalazioni sono state circa 67, 259 in totale da gennaio ad aprile contro le 110 del 2022 negli stessi mesi, a dirlo al comune di Berbania che torna a denunciare disservizi nella raccolta dei rifiuti e la pulizia delle strade. Da maggio 2023 in poi il numero è triplicato, prosegue un comunicato firmato dalla sindaca Silvia Marchionini e dai capi gruppo di alleanza civica Fausto Cavallini e del PD Roberto Gentina, passando a una media da maggio a ottobre di quasi 200 segnalazioni mensili con ad agosto ben 363 e a settembre 227. L'anno scorso nel 2022 erano state molte meno, ad agosto 30, a settembre 29 negli stessi cinque mesi estivi circa 150. Commentano Marchionini, Cavallini e Gentina, si registra purtroppo una differenza enorme tra 2022 e 2023 che ogni giorno riscontriamo nelle proteste di cittadini e attività commerciali che si lamentano di una qualità dei servizi dati da Conservicio in evidente enorme difficoltà. A queste si aggiungono le segnalazioni sulle problematiche di conferimento al centro di raccolta dei rifiuti del Plush e proseguono da molto tempo che insistiamo sulla necessità di migliorare l'organizzazione aziendale per ridurre costi e crescere nei servizi, con un bilancio in ordine, ma finora non si sono visti ancora passi positivi in questa direzione come la mancata introduzione della tariffa puntuale dopo lo studio da noi fatto. A maggior ragione, in continuità con la politica di questi anni di contenimento delle tariffe di risparmio in materia volute dall'amministrazione comunale di Verbagna, confermiamo che non voteremo nessun aumento sconsiderato delle tariffe della tassa rifiuti e concludono, per senso di responsabilità verso i lavoratori, abbiamo deciso di pagare la fattura di 297 mila euro che l'amministrazione comunale aveva tenuto in sospeso proprio per le evidenti carenze nei servizi. Ai lavoratori del cantiere di Verbagna va la nostra solidarietà, ben sapendo che sono le soluzioni organizzative e le strategie aziendali a dover essere modificate nell'interesse dei cittadini per riuscire a determinare una tariffa consona. Ora invece andiamo in Ossola per parlare di un progetto delle ferrovie svizzere BLS che riguarda il treno navetta che collega l'Ossola al cantonvallese. BLS investe sul servizio navetta all'ombra del Sempione. Il colosso ferroviario svizzero ha annunciato il varo di un progetto che porterà all'ommodernamento dei vagoni oggi in servizio lungo la tratta ferroviaria Briga-Iselle. Il progetto prevede la completa modernizzazione entro il 2026. Questo consentirà ai nostri treni di viaggiare in piena operatività per i prossimi 20 anni, spiegano dalla società ferroviaria. Tecnicamente cosa succederà? Tutte le attuali carrozze saranno oggetto di lavori per diventare moderne e tecnologiche. Si punta sulla sostenibilità. I nuovi veicoli avranno uno scompartimento climatizzato con sedili nuovi in modo da rendere più gradevole il viaggio di chi carica moto e bici sul treno. Sarà migliorata anche l'illuminazione e le sponde di carico saranno dotate di un nuovo sistema idraulico. Inoltre, gli annunci in futuro si potranno ascoltare anche tramite gli altoparlanti situati su ogni vagone. Anologo processo di ammodernamento è stato varato sulla tratta del Leuchberg. Qui però i nuovi treni saranno operativi già a partire dal prossimo 19 dicembre. Ancora disagi causati dal vento, ancora una volta in Ossola. È successo la notte scorsa in Aballe-Anzasca. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire nel territorio comunale di Calasca-Castiglione per quattro piante cadute sulla sede stradale. È successo tra le località Balbianca e Calasca-Dentro. Fortunatamente non si sono registrati danni a persone. La strada provinciale è rimasta chiusa per circa un'ora per permettere alla squadra dei vigili del fuoco arrivati da Macunaga di completare il taglio e rimuovere gli alberi caduti sulla sede stradale. Inaugurata oggi a Villa Giulia la 27esima edizione della mostra della Camellia in Vernale. Sino a domani in programma tanti eventi ovviamente a tema floreali e tante anche le varietà in mostra. Vediamo. Appuntamento ricorrente è quello della mostra della Camellia in Vernale qui a Villa Giulia ma che suscita sempre grande interesse. Anche quest'anno un'edizione che già dai commenti dei primi visitatori riscuote grande ammirazione e con Elio Savioli parliamo allora qualche caratteristica della mostra specifica di quest'anno. Ma diciamo caratteristiche nei confronti negli anni passati nonostante il tempo che sembrava condizionarci parecchio sostanzialmente ci ha dato la possibilità invece di esporre parecchie varietà. Abbiamo perso quelle precoci perché visto le condizioni del tempo all'ora sono già fiorite però abbiamo sicuramente un buon numero di quelle che invece hanno una fioritura media e le tardive no perché quelle comunque fioriscono a gennaio e non le abbiamo sicuramente esposte adesso. I numeri sono abbastanza buoni. Io direi anche che relativamente alle caratteristiche della cameglia sassangua nei confronti di tante altre essenze nei giardini direi di osservare soprattutto questa caratteristica perché fa una fioritura nei giardini da settembre fino a inizi di febbraio. Ecco questo è l'aspetto che resta più sorprendente siamo abituati a collegare le fioriture alla primavera, all'estate qui abbiamo fioriture in pieno in autunno e in pieno inverno. Esattamente. È diventata una presenza diffusa anche in molti giardini privati nella nostra zona. Sì sicuramente anche perché si presta a diverse caratteristiche e la siepe perché comunque una siepe si presta molto alle potature per cui una siepe di cameglie che fa una fioritura ha ben un risultato diverso dal solito Lauro Celaso. Ora uno sguardo alla nostra programmazione con le anticipazioni della nuova puntata di Laghi e Monti che come sempre vi aspetta la domenica alle 13.30 con Reclique ancora alle 19 e alle 23. Siamo ai 2000 metri del Passo del Sempione alle mie spalle l'ospizio voluto da Kaspar von Stokalper e al Barone Stokalper dedichiamo la nuova puntata di Laghi e Monti che abbiamo girato tra il Canton Vallese e l'Ossola tra Briga e Domodossola attraverso il Passo del Sempione già perché il Barone Stokalper era un po' considerato il Re del Sempione siamo più o meno a metà del 1600 vi racconteremo questo straordinario personaggio un incredibile commerciante ma anche un abile politico un personaggio davvero affascinante lo faremo insieme con lo storico Enrico Rizzi che pensate al Barone Stokalper ha dedicato anche un libro in prossima uscita Laghi e Monti vi aspetta come sempre alle 13.30 alle 19 e alle 23 su VCO Azzurra TV la domenica ricordatevi di seguirci anche sui social e vi ricordo anche che tutte le puntate del nostro settimanale sono disponibili sul nostro sito VCO Azzurra TV.it turismo sezione Laghi e Monti ma non mancate questa domenica insieme con il Barone Stokalper Noi ora invece parliamo di sport una pagina sportiva dedicata al calcio partiamo dall'anticipo di oggi che ha visto il Borgo Sese a succombere alla Bra sentiamo com'è andata il match è dedicato alla lotta al femminicidio i giocatori si presentano in campo con un segno rosso sul viso la gara stenta a decollare ma al primo affondo gli ospiti passano in vantaggio e il ventunesero quando Marchisone si accentra dalla sinistra si prepara al tiro e batte Uva il match prosegue senza ulteriori emozioni tanti falli a spezzettare il gioco sino al 44esimo Gigli ci prova dal limite Pira spara si rientra in campo e il Borgo Sese appareggia Tunesi scambia con Tobia e l'attaccante entrato inizio ripresa scaglie un diagonale imparabile è il 39esimo quando Tobia riprova a cercare la via del gol ma Pira spara a terra la beffa arriva due minuti dopo quando sugli sviluppi di una punizione Marchisone in aria sigla il gol della vittoria braidese nel finale Piras si supera sulla bordata di Pani e il recupero quando Tobia di testa alza troppo la mira si finisce così ora invece sui campi di gioco dove si dovrà giocare nella giornata di domenica con il menu calcistico piatto ricco anzi ricchissimo in serie D per le nostre squadre che avranno sulla loro strada avversario davvero da temere la RG Ticino affronta in casa il Chisola RG Ticino che in settimana ha rescisso il contratto con l'attaccante buongiorno vuole tornare a vincere la squadra di Presta dopo il pareggio 0-0 sul campo del Pondonaz la serie peraltro positiva dei novaresi dura da ben 10 giornate in campo però troveranno un'avversaria che è la grande rivelazione del campionato prima in classifica insieme a L'Alcione Milano e a quell'Albenga che sarà da neopromossa da matricola l'avversaria del Gozzano in Liguria rosso-blu che hanno trovato linfa entusiasmo e soprattutto punti dopo il successo nel derby contro il Borgosesia in eccellenza ci sono tanti big match a cominciare da quello di Bellinzago tra il Boulé e l'Accademia Borgomanero per proseguire con quello in programma sul campo della Scaris dove arriva l'Oleggio alta partita da segnare con il cerchiolino rosso quella di Borgaro tra i ragazzi di casa e la Volpiano Pianese alla Pedroli il Verbagna affronta la Pronovara due squadre in salute che vogliono coltivare sogni di grandezza la Biellese in trasferta a settimo lo Stresa Vergante ha un match da vincere a tutti i costi ad Arona contro la Proeureca in promozione big match a Briga dove i padroni di casa affronteranno la città di Casale il Baveno riceve il Cever-Sama-Biella la Rona in trasferta sul campo della Dufur-Varallo la Juve-Domo misurerà il suo stato di forma in casa contro il Cameri Trino atteso dalla trappola Momo Lomenia affronta la liberazione nel derby il Ferriolo in prima categoria invece il Gravelona-San Pietro va a Vogogna a Cannobbio arriva il Piedimolera Nord-Navassese sfiderà il Carpignano big match tra Trecate e Virtus Villa e tra Union e Novara e da Grano è tutto grazie buona serata grazie